Fumo? Sì, grazie. È l'unico vizio che ho. Oh, ma che si è sparsa la voce? Cosa dici, prego? No, niente. Parlavo da solo. Appena l'ho vista lì sulla strada, ho capito subito che lei era una brava ragazza. Che potevo fidarmi. Davvero, perché oggi, sa, con tutti sti delinguenti che ci stanno in giro non è che uno... Invece lei proprio ispira fiducia, davvero. Grazie.